E scontro a Chieti per quanto riguarda il servizio menze scolastiche. In attesa ci sono circa 1.500 alunni di 4 istituti comprensivi. Il servizio, dicono dal Comune, tornerà attivo tra la fine del mese di settembre e l'inizio di ottobre. Duro invece l'attacco verso la maggioranza della capogruppo di azione politica Serena Compiglio, visto che al suono della prima campanella fissato per il 13 settembre il servizio di refezione non sarà a disposizione dell'utenza. Il servizio ripartirà con una proroga verso l'attuale gestore, e cioè l'Aladisa. Anche quest'anno il servizio non partirà il primo giorno di scuola e c'è molta incertezza sul punto. Difatti ad oggi, nonostante le beghe giudiziarie durate circa due anni, il Comune arriva impreparato all'appuntamento scolastico. Nonostante ci siano state queste sentenze del Tarre del Consiglio di Stato rispettivamente concluse a gennaio e a giugno di quest'anno. Ci aspettavamo un'amministrazione finalmente pronta, invece così non è stato. C'è incertezza sulla modalità in cui il servizio verrà attivato. Non sappiamo se verrà attivato in proroga, non sappiamo se verrà data esecuzione a queste sentenze della giustizia amministrativa. Addirittura qualcuno parla anche di attivare una nuova gara di appalto. L'unica certezza è che il servizio mensa ad oggi non ancora riparte e non sappiamo la data definitiva in cui la refezione scolastica comincerà a chiedi. Tutto questo anche in mancanza di convocazione della Commissione Mensa, in mancanza della convocazione della Commissione Pubblica Istruzione, evidentemente perché l'assessorato di riferimento non ha risposte concrete da dare alla cittadinanza e alle famiglie che subiscono un forte disagio.